Cosa mi spinge a lavorare contro il trend? Questa è stata una delle domande nei vostri commenti di Roberto in uno degli ultimi video. Io spesso durante i video chiedo di scrivere commenti che possono darmi degli spunti per fare dei nuovi video pillole che siano interessanti e devo dire che questa domanda di Roberto mi ha catturato la mia attenzione può essere un video istruttivo un po' per tutti e quindi vedo un attimo di spiegarvi i motivi che mi spingono, qualora lo dovessi fare di andare contro tendenza. Allora intanto spiego per tutti io sono Ardino Schenato, yearforex.com facciamo trading da tanti anni abbiamo un sito che condivide le nostre strategie le nostre approcci al trading da tantissimi anni e molti di voi sanno che per lo più l'operatività che io vado a fare è un'operatività che segue le tendenze che cosa significa seguire le tendenze perché possono essere tendenze intraday possono essere tendenze di più lungo termine insomma ci sono un sacco di modalità per leggere le tendenze di mercato diciamo che io utilizzo principalmente grafici weekly e daily quindi con barre come vedete qui settimanali o giornaliere e la mia diciamo impostazione è quella di tendere a seguire le tendenze settimanali che si vengono a creare su delle pause che poi sul daily riesco a intercettare con un timing diciamo un po' migliore ecco questo un po' però ci sono in effetti anche dei casi in cui è non voglio dire necessario ma può essere profittevole e quindi è efficace andare a lavorare anche contro le tendenze quindi io nel mio cumulo di trade che faccio in effetti ci sono anche dei momenti in cui vado a tradare diciamo contro la tendenza di medio e lungo termine di medio termine possiamo chiamarla tendenza weekly o almeno la chiamo così perché? perché magari ci sono delle price action ci sono delle situazioni per cui è evidente la possibilità di un ritorno dei prezzi se siamo in un mercato long a ribasso o se siamo in un mercato short a rialzo io qui ho come potete notare qui al mio al mio lato ho il grafico di dollar yen è un grafico settimanale come potete ben vedere qua una settimana si nota anche qui dollar yen weekly grafico a barre settimanali che ci mostra un cambio di tendenza no? questo ovviamente magari non sarà un cambio di tendenza del lungo termine questo non lo possiamo sapere ma sicuramente è un cambio di tendenza che per noi trader di breve termine può permetterci di fare bene quindi lasciamo stare il fatto che io lavoro principalmente in trend quindi in tutta la parte dei trend ma quando è che per me può essere interessante mettermi short? beh diciamo che se seguite il platinum quindi il nostro programma formativo il nostro servizio formativo didattico delle trading room di ogni giorno potete andare a capire anche tutte le sfumature io con questo video cercherò di essere un po' più generalista ovviamente perché non riesco ad andare su ogni singolo mercato su ogni sfumatura che dà il mercato però possiamo dire che la prima cosa potrebbe essere quella che il grafico settimanale quindi non daily sia arrivato su un livello importante di prezzo di medio e lungo termine come faccio a vederlo? ovviamente in questo caso devo andare a prendere un grafico settimanale addirittura un mensile e devo vedere dove siamo arrivati per esempio mi ero accorto che nel week nel mensile o comunque un weekly più zoomato si notavano delle aree molto importanti di dollaro yen tra area 144 e 148 e poi anche a salire in realtà zone dove io le chiamo zone di vendita zone di interesse dove nel passato molto remoto perché stiamo parlando del 98 il mercato aveva fatto praticamente un grande sell off aveva creato della price action short quindi nell'ottica di vedere un mercato che è in piena volatilità rialzista quindi andiamo su settimanale ha spinto 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 senza mai veramente fermarsi appena abbiamo un trigger setup short possiamo iniziare un po' a capire il da farsi in questo caso il trigger è questa barra rossa che è una pin bar come vedete è anche un FTV reversal per chi conosce la FTV e quindi da qui noi possiamo iniziare a pensare che il mercato possa avere un declino e quindi io nell'ottica di trading non andrò più a impostare un trading diciamo nel daily nelle mie analisi weekly di stampo long seppur siamo in una tendenza long ma andrò a impostare un'idea short quando quando il mercato ci danno delle impostazioni short delle idee short tra l'altro questo tipo di setup se andate a prendere il mio eccolo qua questo qui è il mio profilo se volete andarlo anche a seguire arvino schienato su tradingview e io ogni settimana metto delle mie idee delle mie analisi e proprio questa qui dollaro yen eccola qua fatti du reverse su grafico settimanale eravamo in un trend long e la mia analisi è stata short è stata è stata potete andare a leggere è stata di un'idea short quindi diciamo che le dinamiche di cambio tendenza si notano si vedono sul grafico devono esserci dei setup e questi setup poi devono essere confermati da un grafico daily ovviamente il setup deve arrivare per esempio in questo caso arrivavamo molto lontani dalla media mobile a 21 periodi che è l'unico indicatore che utilizzo arrivavamo sul livello chiave importante arrivavamo con un setup tra l'altro combo quindi pin bar più ftv reversal c'erano delle situazioni interessanti quindi questa era la settimana del 17 ottobre quindi dal 24 di ottobre poi se andiamo a prendere il grafico eccolo qua possiamo notare come il mercato in effetti dopo l'ftv reversal in questa fase ha creato una congestione chiara di possibile poi aumento di volatilità sappiamo che la volatilità e ci farò un video anche di questo qualcuno me l'ha chiesto fa delle è un po' come un elastico aumenta e poi si restringe aumenta e poi si restringe quindi il mercato aveva creato grande volatilità qui aveva ristretto la sua volatilità e poi il mercato ha rotto al ribasso confermando l'ftv reversal che sarebbe stata triggerata qui triggerata vuol dire violata al ribasso se notiamo bene poi la cosa bella è che proprio nella struttura daily in questa parte qui eccola qua vedete che qui si era creata le classiche questa qui è una barra pinbar ma non tradabile non fuoriesce dalla struttura non è una pinbar che ha effetti long ok questa pinbar qui ma avevamo questo come livello importante e questo come livello importante quindi addirittura le pinbar di questo tipo in una fase ribassista come questa la rottura al ribasso possono creare proprio le spinte ribassiste quindi sono proprio contrarie nel leggere il movimento quindi in questo caso c'è stato appunto una rottura ritracciamento e poi il grande breakout e movimento poi in realtà anche nelle settimane successive nei giorni successivi si potevano trovare degli spunti se si fa price action di trading insomma per tradarlo però ecco la cosa che mi viene da dire come vado a tradare il contro trend devo avere ovviamente un setup contro trend nel weekly deve allontanarsi la volatilità chiaramente dalla mia media 21 esponenziale deve diventare un mercato un po' in bolla e poi devono esserci magari delle conferme grafiche ancora meglio sul settimanale prima di tutto e poi sul daily se guardiamo altre situazioni per esempio qui o qui a parte che non avevo dei veri e propri setup di vendita rispetto a questa ok qui non c'era stata una vera e proprio setup qui ci possono essere dei momenti in cui il mercato fa una discesa fa i classici ritracciamenti le classiche congestioni prima poi di una continuazione e comunque se non c'è un chiaro setup sul weekly come invece c'era in questo caso qui e qui si può andare alla ricerca sul daily di dinamiche che posso andare a confermare o meno la view che potrei avere perché poi il weekly per me è il time frame bussola è quello che mi dà un po' una linea tra l'altro in questo canale c'è un video dedicato forse un paio di anni fa dedicato al grafico weekly e al fatto che per me è la bussola l'ho chiamato il time frame bussola cioè quello che ci dà un po' la mappa da seguire è poi durante la settimana quindi questo ok questo è un po' l'idea solitamente aspetto addirittura magari anche un massimo decrescente magari sul daily per esempio mi viene da dire mi ricordo sterlina dollaro e quindi questo è un esempio long sterlina dollaro quando avevamo avuto eccolo qua quando avevamo avuto quella barra tail bar questa qui sul livello chiave questo qui era un livello assolutamente importante un po' come quello di dollaro yen eccolo qua guardate quello era del 99 dollaro yen questo addirittura risaliva all'85 di sterlina dollaro quindi un livello assolutamente importante il mercato era ribassista qui c'era stato un minimo importante e questo è un mensile sul mensile tra l'altro si era creata una bar tail bar anche qui ma il settimanale che per me è il time frame bussola eccolo qua vedete crea una tail bar sul daily abbiamo avuto una pin bar eccola qui con due inside bar successive rottura del massimo ecco che se succede una situazione di questo tipo qui difficilmente cioè può succedere che mi metto anche long ma è difficilmente mi metto long direttamente da qui aspetto magari su week o su daily magari uno qualche swing e infatti nelle settimane successive nei giorni successivi proprio sul giornaliero guardate ci sono dei punti che ho segnato qui con la ellisse arancione che ci danno proprio lo spunto per entrare a mercato o comunque avere uno spunto di trigger di possibile come dire inizio o comunque continuazione di movimento infatti questo era il primo che quindi aveva fatto il classico 1 2 3 quindi ci crea il setup sul weekly non vogliamo subito andarci contro aspettiamo che sul daily si formino dei minimi e massimi crescenti per esempio questo era per esempio il migliore possiamo dire questo questa è una FTV questa Pimbar e questa FTV forse erano i migliori per prendere ovviamente movimenti di breve termine no? che possono andare a prendere un movimento di 2, 3, 4, 5 una settimana come ovviamente noi stiamo parlando di trading qui in questo caso diventa assolutamente interessante quindi lavorare in quel caso il controtrend in questo modo ovviamente poi il controtrend iniziale diventa un trend di breve prima e se continua di medio poi e quindi poi si inizia a lavorare direttamente sulla tendenza e quindi sulle fasi di swing lo sapete ne ho parlato mille volte ne parlerò ancora quindi diciamo che avere una dinamica di conferma su daily è importante dobbiamo avere però un week di un certo tipo e da lì allora possiamo iniziare a dedicare anche per quel mercato diciamo dei soldi a un'operatività anche diciamo contro la tendenza di quel momento ma che può diventare la tendenza poi futura che vedremo nei giorni successivi bene io oggi ho finito spero di essere stato chiaro di non essere stato troppo lungo no non credo vedo che diciamo come tempistica va benissimo io a questo punto vi chiedo sempre vabbè di lasciare un like di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti di attivare la campanellina se non l'avete fatto così vi arrivano le notifiche se siamo live se abbiamo qualche video nuovo ma anche di lasciare un commento e in questi commenti di darmi degli spunti sempre operativi per nuove pillole perché visto che me ne state dando io me li segno e poi un po' alla volta di settimana in settimana faccio dei video brevi di video pillola come li chiamiamo noi perché così possiate capire un po' la mia visione su alcune domande che voi avete riguardo appunto al trading con la price action io quindi vi ringrazio vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vediamo sempre su questo canale nei prossimi video un saluto a tutti ciao ciao